Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani ed oggi faremo una lettura angelica valida per una settimana dal momento in cui la stare guardando. Utilizzeremo tre mazzi di carta. Chiedo con amore, gentilmente durante la preghiera di protezione di chiedere ai vostri angeli, all'arcangelo Michele, guida ed assistenza su quale gruppo scegliere. Potreste scegliere gruppo A, gruppo B oppure tutti e tre i gruppi, ok? O solo due. Seguite il vostro cuore, il vostro cuore dice sempre la verità. Ok, iniziamo con la preghiera. Invoco la divina presenza di Dio Dea, Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi, il sé superiore di tutte le anime qui presenti che stanno ascoltando questa lettura angelica. Con amore è vero, pure e sincero, arcangelo Michele, ti chiedo di purificare le nostre intenzioni, parole ed azioni, di scacciare via tutte le energie di paura, di egoismo, di giudizio, di manipolazione, sofferenza, dolore, competizione. Tutto ciò che opposto a Dio alla luce e all'amore si allontani da noi istantaneamente. Con amore, arcangelo Michele, ti chiedo di sintonizzarci nella frequenza dell'amore, della gioia, della prosperità, dell'abbondanza, della creatività, della bellezza, della salute perfetta e di radicare la nostra energia fino al centro della madre terra e di creare uno scudo di protezione dentro di noi, intorno a noi, nel luogo in cui ci troviamo, a livello fisico, mentale, emozionale, spirituale, in tutti i livelli del nostro essere, in tutte le dimensioni, sistemi di realtà e in tutte le direzioni del tempo-spazio. Grazie, 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 è fatto, è fatto, è fatto e così è, così sia, ora, per sempre e per l'eternità. Vediamo un po', iniziamo col gruppo A, vediamo che carta ci dà, eccola qui, gruppo A, Aspettati i miracoli. Che bello. Eccola qui, vi. È venuto il momento di condividere te stesso, te stessa. Aspettate, ok. Hai dei messaggi da portare nel mondo. C, entra nel tuo pieno potere. Interessante, sta arrivando il tuo pieno potere, ok. Sta arrivando, stai entrando, ti stai connettendo con il tuo pieno potere, questa è una cosa bellissima. Vediamo ora queste carte dei viaggiatori sacri. Ok, gruppo A, sono uscite due carte, il viaggio del cuore è trovare un santuario, ok. Cioè, creare uno spazio sacro, armonico e protetto. Le due carte sono correlate. Che bella questa lettura. Vediamo un po'. Abbiamo gruppo B. Tu sei un leader saggio. Che bello. Questo non esce. Andiamo avanti. Uscirà la terza carta. Per il gruppo C, vediamo un po'. Non vuole uscire, va bene. Vuol dire gruppo C, niente viaggiatori. Eccola qui. Ecco la terza carta, ok. Il supporto nel tuo percorso, ok, è intorno a te. Sei protetto, sei al sicuro, sei guidato, sei guidata. Ok, adesso utilizzeremo le carte Magical Times. Sono gli esseri dei mondi spirituali, no? Le fatte, i draghi, gli esseri che non sono di fantasia. Sono in un altro livello di esistenza, in un altro piano, in un'altra dimensione. Ecco, gruppo A, sono uscite due carte. Cicli. Ok, cicli. È interessante. Gruppo A, sono uscite diverse carte. Vuol dire che una lettura molto importante. Energia. Ragazzi, la lettura A, oggi è doppia. Ora vediamo gruppo B. Gruppo B, eleganza. Che bello. È una lettura molto diversa dal solito. Sono contenta perché è giusto dare nuovi, danzare. La danza, la danza è fondamentale. Ok, vediamo un po'. Iniziamo con il gruppo A. Gruppo A, aspettati dei miracoli, miracoli infiniti alle porte. Stanno arrivando nella tua bellissima vita. Aspettati cose meravigliose. Potrebbe essere una guarigione. Potrebbe essere un incontro importante. Potrebbe essere un lavoro. Potrebbe essere che le tue preghiere sono state ascoltate. I tuoi desideri si stanno manifestando sul piano della materia. Quindi aspettati i miracoli perché stanno arrivando. Sono nella direzione, nella tua direzione. Ok? C'è un invito all'introspezione. C'è un invito ad ascoltare il tuo sacro cuore. E a cercare un luogo tranquillo dove meditare, dove entrare in ritiro spirituale, dove trovare la tua anima, ascoltare il tuo cuore. Potrebbe essere anche la tua stanza da letto. Purifica. Crea uno spazio sacro, armonico e protetto. Crea uno spazio dove tu puoi entrare in connessione con te stesso. Ok? L'amore è la via che devi seguire. Hai proprio bisogno di riconnetterti con l'amore, di riconnetterti con la gioia. Un ciclo negativo si sta chiudendo, un nuovo ciclo si sta aprendo. Un nuovo ciclo con grande prosperità, grandi cambiamenti. Devi assolutamente credere nel potere del processo che stai vivendo. Lascia andare la paura. Va bene? anime meravigliose. Qua c'è un drago bellissimo. Ok, ora vediamo un po'. Energia. L'energia vitale, la forza vitale della vita sta fluendo liberamente. È proprio un'energia molto positiva a tuo favore. Apri il tuo cuore, apriti a ricevere il potere che hai dentro di te. Sei potente, sei un essere potente. Che bella ragazzi. Ascoltate l'arcangelo Michele, ascoltate gli angeli che operano nelle dimensioni che sono in allineamento con l'arcangelo Michele. Questi esseri di luce assolutamente sono in comunione di intenti per la nascita della nuova terra. Quindi ci stanno aiutando, ci stanno supportando dai regni sottili. Va bene? Ok, gruppo B. Ok, mi raccomando, protezione, comunicare solo con gli esseri di luce, della coscienza michaelica. Questo è un consiglio. Gruppo B. Sharing yourself of yourself. Cioè è venuto il momento di condividere col mondo chi tu sei veramente nella tua completezza e della tua totalità. Sei un essere generoso e gentile. Sei un'anima pura. È venuto il momento di dire al mondo chi sei, come? Attraverso la tua parola, attraverso la tua espressione creativa dell'anima, la tua arte, il tuo modo di essere. Devi dirci la tua. Tu sei un leader, non sei una persona che deve rimanere nascosta. Sei una persona che deve emergere e far sentire la propria voce. Assolutamente tu sei una guida per gli altri. Sei una guida per gli altri. Va bene? Hai una grande saggezza interiore. E sei anche elegante. Cioè l'eleganza fa parte di un tuo modo di trasmettere con gentilezza, con entusiasmo, con grinta le tue idee. Va bene? E l'eleganza anche della riconnessione con la natura. Ok? Qua c'è un fiore di lotto che rappresenta il risveglio spirituale. Ok? Quindi il fiore di lotto cresce, come sappiamo, nell'acqua, no? Ed è un fiore meraviglioso. Rappresenta proprio il risveglio, la connessione, la centratura, l'espressione della bellezza e dell'eleganza. Quindi tu sei tutto questo e gli angeli ti stanno dicendo vai avanti, agisci in questa direzione e esprimi chi tu sei perché il mondo ha bisogno di te. Bene, gruppo C? Assolutamente io entro nel mio pieno potere, con confidenza, forza, coraggio e determinazione. Stai ritrovando la tua forza e il tuo potere. Vedete che bella questa foto? Per molti è anche l'integrazione del sé superiore, l'integrazione dell'anima nella parte, cioè la parte umana e la parte divina che si uniscono in comunione di intenti nella direzione di uno scopo superiore. Molte anime stanno ascendendo in quinta dimensione, molte anime hanno fatto questa scelta, stanno lavorando per questo e stanno vedendo miracoli infiniti nella propria vita, stanno vedendo manifestazioni di bellezza e di gioia in questo mondo che apparentemente è nel caos più totale. Ed è questo quello che dobbiamo fare, non è quello di seguire le brutte notizie, mandare luce dove c'è guerra, disperazione, mandare luce dove ci sono tutte queste cose bruttissime, intervenire là dove possiamo, ma mantenere alte le frequenze è fondamentale per passare nella quinta dimensione, mantenere alta la luce, perché quello che vuole l'oscurità è quello di tenerci bassi, deboli e naturalmente se soffriamo, se stiamo male, noi ci abbassiamo nella frequenza e loro ne approfittano energeticamente parlando, ok? Non è uno scherzo, la vera vittoria è quella di mantenere in questi tempi finali le energie altissime di gioia, gratitudine, perché vibrando così le cose negative non ci possono toccare e questa è la via, non possiamo nel dolore sperare che ci vada bene, dobbiamo vibrare nella gioia, vibrando nella gioia tiriamo altra gioia e possiamo contribuire in questo caos tremendo, ma possiamo contribuire all'ascensione del pianeta, possiamo contribuire ad ascendere noi e a far ascendere anche le altre anime che sceglieranno la via maestra dell'amore. Il supporto anima infinita è con te, sei supportato in tutto quello che stai facendo, il tuo è un viaggio luminoso, vedi c'è un arcobaleno, il tuo è un viaggio di luce, il tuo è un viaggio di grandezza, il tuo è un viaggio di entusiasmo, il tuo è il viaggio dell'anima, ascolta la tua anima, ascolta il tuo scopo e divertiti. Gli angeli, gli esseri della natura ti invitano a danzare. La manifestazione può essere fatta anche attraverso la danza, pensare ai tuoi desideri come che sono già realizzati e muovere il tuo corpo, danzare con musica che ti piace, con tutta la musica che ti piace e fai emergere la tua anima, la gioia, la bellezza e la grandezza perché hai bisogno di fare questo, va bene? Ok? Assolutamente, la danza è uno strumento potentissimo per manifestare, per scaricare lo stress e per riconnetterti con le energie più elevate in assoluto della luce. Bene, anime infinite, la nostra lettura si conclusa, voglio leggervi un messaggio da questo libro meraviglioso che adoro, chiedo agli angeli, all'arcangelo Michele, alla coscienza michaelica di aiutarmi a portare un messaggio d'amore per tutte le persone coinvolte. I tempi sono maturi e tu, io credo che questo è un messaggio che riguarda molti operatori di luce che ancora un po' stanno dormendo. I tempi in realtà sono sempre stati maturi e da tempo ti aspettavano e ti aspettano invitandoti a seguire il tuo futuro. Non lasciarti suggestionare dalle difficoltà, dai pensieri negative e dalle paure, agisci. La maturità si misura anche in questo. Bellissimo, questa lettura è strepitosa, scrivete i vostri commenti perché veramente io la trovo fantastica. Bene, anime infinite, volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare il riequilibrio energetico a distanza e anche sessioni di logo sealing, massimo 5 persone al mese, non di più, in un percorso di grande crescita e consapevolezza. Faccio anche dei percorsi di manifestazione per aiutare a cambiare la vostra energia e passare da dove sei a dove vuoi essere, dove vuoi arrivare. Naturalmente il passo è cosa? Bisogna cambiare la nostra energia, i nostri sistemi di credenza affinché l'inconscio che guida la nostra vita possa manifestare quello che noi vogliamo. Il segreto è la riprogrammazione e tutto diventerà sincronico e perfetto nella vostra vita. Voi siete quello che pensate, quello che sentite, voi siete quello che siete. Per poter cambiare quello che siete dovete cambiare la vostra energia, nel senso che se siete giù per salire su dovete cambiare la vostra energia, i vostri pensieri, le vostre emozioni. So che se stai male in questo momento tu dirai ma che stai a dire Rossella? Io sto malissimo. Ebbene, c'è la possibilità di uscire da tutto questo. Sta a te, vuoi continuare a provare dolore e sofferenza, a lamentarti? È la tua libera scelta, però sapi che guardando questo video stai scoprendo che esiste una nuova verità, che esiste una nuova via, la via dell'elevazione spirituale, della crescita. Perché stare male non è spirituale ragazzi, può esserlo all'inizio, può essere il calcio nel sedere per il risveglio, ma stare male per un lungo periodo di tempo non vi porta proprio a niente. Volevo anche ricordarvi che la classe di nuovo percorso di riequilibrio energetico con le nuove frequenze di luce, allora la classe di ottobre è quasi al completo, questa volta ci saranno 12 posti, manca un posto disponibile, 18 ottobre, mercoledì 18 ottobre alle ore 21 iniziamo, è una classe bellissima, con anime stupende, con anime elevatissime, meravigliose, quindi veramente se vuoi unirti a questo gruppo fa l'ora perché c'è solo un posto disponibile. Se invece magari è un po' troppo presto per te, vorresti farlo un pochino più avanti, la prossima classe sarà, ve lo dico subito, scusate non mi ricordo se il 15 di novembre, no sarà il 18 nove, no il 18 scusate il 18, no scusate mi sto incasinando, sarà esattamente il venerdì il 15, avevo ragione, il 15 di dicembre, mentre la nuova classe di connessioni angeliche, il corso di connessioni angeliche sta avendo un successo incredibile, le anime sono arrivate da me persone dotate e meno consapevoli di essere dotate, che stanno riscoprendo i propri doni spirituali in un modo sicuro e protetto, perché gli insegnamenti dell'Arcangelo Michele ti consentono di accedere alla conoscenza, alla connessione angelica, alla connessione con la tua anima, ma in uno spazio sacro, armonico e protetto, quindi se tu vuoi imparare a sentire i tuoi angeli, ad ascoltare la tua guida divina, questo percorso è un percorso meraviglioso, inizierà la nuova classe lunedì 11 dicembre 2023, le iscrizioni sono aperte, massimo 10 posti disponibili, ok? Bene, se invece tu vuoi vivere l'esperienza dal vivo in presenza con me, a San Donato milanese ci sarà il nuovo corso di guarigione con le nuove, o riequilibrio energetico con le nuove frequenze di luce dal 23 al 26 marzo 2024. 23 e 24 marzo, seminario di guarigione e 25 e 26 seminario di connessione al sé superiore. Riceverai la tua connessione al sé superiore personale, ma nel pacchetto ci sono anche tre sessioni di riequilibrio energetico che io ti donerò incondizionatamente a distanza prima di fare il seminario per prepararti energeticamente per questa esperienza. Iscriviti adesso perché i posti sono veramente limitati, 15 posti e già la metà sono già prenotati. Volevo dirti che hai tutto il tempo per organizzarti in tutti i livelli economicamente, spiritualmente, in tutti i livelli, quindi se senti nel cuore che questa è la chiamata, iscriviti adesso, basta anche solo una caparra e poi voglio dire quando tu chiedi addio all'amore all'universo, io voglio fare questa cosa e per me l'intero universo si muove per sostenerti. Anche questo fa parte degli insegnamenti spirituali, della legge dell'attrazione, bisogna uscire dai limiti mentali di scarsità, ecco è questo che intendo, va bene? Per qualsiasi domanda non esitate a contattarmi, io vi saluto, vi ringrazio, grazie per l'attenzione, vi ho preso anche troppo tempo, io quando inizio a chiacchierare non la smetto più, io vi saluto, un abbraccio immenso, a presto, ciao ragazzi, ciao ragazze.